Loro dei giornalisti insieme al ciclo della stampa, al GSA che ci ha dato la possibilità di credere il mercoledì e alla federazione tramite l'associazione nomale dei giornalisti, abbiamo deciso che i corsi di informazione soltanto li facciamo da tutti, ma li facciamo su eventi che possono essere davvero sfogatesi su casi come questo, che è ancora un nervo scoperto della storia italiana. Oggi, grazie a questo libro e grazie soprattutto a Don Loro dei Grassi della Commissione Moro, che ha tanto lavorato in maniera davvero senza perdersi un attimo, è un anno e mezzo e due anni che ci lavora e sono emesse molte cose che nessuno di noi riusciva a sospettare e ci raccolteranno delle cose che probabilmente li stupiranno. Vedete la prima immagine, questa qui, il lavoro che vi spiegherò meglio, è scritta da, è stata disegnata da Morucci, che era nel gruppo dei dieci che hanno agito i via Fani e ha dato tutta la disposizione di dove erano quelli che hanno sparato e gli altri che hanno partecipato alla guatto dei via Fani. Come vedrete ci sono delle frecce, in questo caso sono in alto, le frecce indicano che hanno sparato solo da sinistra, se non sbaglio. In realtà però, come vi spiegheranno meglio, ci sono moltissimi pulpi da destra, di proiettili di un altro non classificabili. Questa è una novità importante. La prima novità dell'apparamento io velocemente, ma grazie agli dottori, poi ci sono andato anch'io dal generale Gozzo, un brazzo destro del generale della richiesa, anche di recente, beh, il generale Gozzo pochissimo un tempo fa, un settimane e mezzo fa, due settimane fa, non di più, ha detto guardate che generale la richiesa, tre mesi prima del rapimento Moro, aveva detto ai carabinieri, lui era il generale Carabinieri, ma era fuori gioco perché seguiva le carceri in via Montacini e molto più vado di che ci sia, il covo delle Brigate Rosse, era il covo chiaro delle Brigate Rosse, non si è mosso nessuno. Tre mesi dopo hanno sequestrato Moro, via Montacini è diventato un punto delagico, i carabinieri non si sono mossi sapendo che il covo era lì. Questa è una cosa scoperta proprio di recente che comincia a darci un'idea di quello che sta succedendo. Allora, cominciamo proprio da via Fani. Vedete, questa è una delle due immagini, adesso io cerco di vedere se c'è anche la seconda, ecco, da un'altra visione che ci spiega ancora meglio la geometria e la panoramica di questa realtà, ci dicono delle cose che quattro processi non erano riusciti a stabilire, grazie alla Commissione Moro, grazie al Salvo Presidente e Stefania Linti che hanno lavorato duramente su questa inchiesta e hanno fatto questo libro che non a caso si intitola confronto di C e di R complici. Allora, sono riusciti a stabilire delle cose che non c'erano, che quattro inchieste, quattro voti di Moro Terri, Moro Quattro, non erano riusciti a stabilire. Ma questo è importante perché una gran parte dei personaggi che allora facevano inchieste anche dei servizi segreti sono ancora vivi, sono ancora molto, e la gran parte sono cooperativi e hanno tutto l'interesse che non si conoscono queste cose. Noi le vogliamo dare ai giornalisti in un corso di formazione perché i giornalisti devono essere i primi a sapere questa realtà. Ecco perché oggi siamo qui, molti arriveranno dopo perché finiscono quei periodici un po' più tardi e gli daremo un posto fuori, qua siamo già un centinaio c'erano altri centoposti, perché questo è un'occasione importante per capire che i giornalisti la realtà di Comodo non la stanno accettando. Abbiamo la formazione Moro e abbiamo altri che sono della nostra parte. Ed è questo il lavoro che stiamo facendo con tutta la formazione che stiamo mettendo in piedi in questi anni. Allora, io direi che prima di tutto dovrebbe essere il donorevole Grazzi a spiegarci che cosa è riuscito a stabilire, poi ci diranno, Stefania Metti e Sandro Convigionato ci diranno che cosa non sono riusciti a mettere nel libro proprio sulla quattro di via Fani. Anzitutto buonasera, grazie dell'invito, il libro, prima della commissione libro, che secondo me è un arricchimento notevole della conoscenza su quello che avvenne nei 55 giorni. Dico sempre quello che penso e vi dico anche che il titolo è riduttivo di questo contenuto del libro. Nel libro c'è molto di più del titolo che ovviamente è soggetto a tante valutazioni. Ed è anche un libro che arriva ai giorni nostri perché contiene, seppur in luce, ma perché la commissione che sta lavorando non ha completato, da soli sei mesi che stiamo lavorando, non ha completato una marea di fronti aperti, non solo di audizioni. Il libro è recentissimo perché arriva ai giorni nostri, se non ricordo male, ad aprile 2015. Quindi contiene alcune novità, working in progress. Il libro dimostra una mia idea, quale? La necessità della seconda Commissione Moro. Necessità che è stata fortemente osteggiata, prima, dopo e durante. E non solo in Parlamento. Non solo in Parlamento. Un atteggiamento di ostracismo, anche questo trasversale. Quando dico dovrebbe stare, per non essere generico, dalle Brigate Rosse alla Magistratura, per pezzi della politica, tra forze dell'ordine, un pezzo della Chiesa e anche un pezzo dei protagonisti terzi della vicenda Moro. Perché? Perché in questo Paese non si vuole evitare. Il fatto stesso che dopo 37 anni ci stiamo a parlare, dimostra come in questi 37 anni c'è stata una parte della società debolissima, trasversale, che ha spinto per arrivare alla verità possibile. E' una grande parte di questa società che non solo si è mossa perché non si arrivasse alla verità, ma ha costruito elementi di totale bugia rispetto alla verità. Cito, siccome Renzo mi chiama in causa della commissione Moro, io sono sempre stato convinto, così ho letto, così mi hanno raccontato, anzi qualcuno ha anche descritto, che in via Fani l'automobile di Moro avesse tamponato l'automobile di Moretti. Negli atti della magistratura si parla di questo tamponamento. Noi abbiamo le foto, non c'è nessun tamponamento e siccome lo dico ai più giovani, all'epoca i fettinebbia delle automobili erano postici esterni. L'automobile di Moro c'ha i fettinebbia integri che se ci fosse stato il tamponamento sarebbero stati rotti. Agli atti della magistratura si parla del tamponamento. Questo è un esempio. in 37 anni nessuno si è meritato di fare l'analisi, non logica, all'entomobile presenti in via Fani, a parte quelle di Moro e quelle dei fettini. Analisi che invece è stata fatta 55 giorni dopo in via Cattari, dove lo riceviamo nei reperti tutte le foto, da tutte le posizioni di tutte le automobili di via Fani. Ecco perché fanno bene gli autori a proporre un ulteriore elemento di riflessione, anche perché ci sono dei libri che vengono prodotti per depistare. Non è questo il caso. Sono in giro dei libri scritti volutamente per inserire nel circuito delle informazioni grandi bugie. Vi dico della Renault, sempre a flash. Io ho trovato questa Renault. non era difficile, perché era depositata il deposto della polizia, però abbiamo avuto un inizio difficoltà tra ciò. A parte il fatto che in un'Italia che spesso si piange addosso, bisogna ricordare che il proprietario di questa Renault, che è un contadino marchigiano, ha rinunciato due o tre anni fa, prima di morire, due natali fa, ad una grande somma offerta gli dalla casa automobilistica francese Renault, che voleva acquistarla come testimonia. E lui, Bartoli, ha detto che io non mi posso ritire vendendo un'automobile nella quale è stato trovato un uomo morto, una lezione di etica e di responsabilità che farebbe bene a tutto il paese e che viene da un contadino marchigiano. Detto questo, la Renault parla e che dice se tu muoro veloci di nella Renault, i colpi vanno dall'alto verso il basso, ma i colpi vanno dall'alto verso il basso l'alto. Se tu muoro veloci di nella Renault, dal cuore di muoro al parafango, ci sono 70 cm di distanza, muoro muore per l'emorragia interna. I brigatisti dicono che muore subito, non è vero, ha 15 minuti di agonia. non esiste schizzo di sangue che possa fare 70 cm di distanza, e allora le macchie sul parafango della macchie della macchia di muoro da dove arrivano, la strisciata della mano sul tetto interno dell'automobile da dove arriva. non lo ha neanche ucciso nella Renault. Torniamo agli affari. Alla mia destra c'è il signor Franceschini che, sugli affari, in occasione di commissioni vecchissime, quindi riproduco una cosa detta da lui trent'anni fa. Dice il maresciallo Leonardo è stato ucciso da persona che lui ha riconosciuto, da un corpo di grazia. Il maresciallo Leonardo non è stato ucciso da sinistra, è stato ucciso da destra. La 765 di Bonisoni, che era l'unica in Giasani, si è inceppata. Il maresciallo Leonardo l'ha ucciso. E' strano che l'affermazione che fa Franceschini la riprenda identica senza conoscere la sua la regola di Moro, che su Leonardo dice la stessa cosa. Lui dice un'altra cosa, mai esperita. Una persona come Moro non poteva essere nascosto a Roma per 55 giorni. Perché a Roma, perché che bene, la CIA e il Mossad, se avessero voluto trovare un topo sembrato, potrebbero trovare? Torniamo di affari. La commissione sta facendo le indagini, quindi probabilmente con la strumentazione del mondo di Erna si raggiungeranno i risultati di certezza che prima potevano essere confutati. Ma io chiedo a voi e chiedo a me, ovviamente io la risposta la conosco, è il pazzisco pensiero. che non è di quello. Al di là della quantità di coppi sparati che vanno da una settantina ai 98, lasciamo stare, consideriamo il massimo, 98. Di questi 98, 48 sono sparati dalla stessa arma da fuoco. Questo signore qui, ovviamente il termine del signore non risulti affatto del debilatorio perché io rispetto totale sulle persone. E Curcio dicono entrambi, non abbiamo mai avuto un buon rapporto con le armi. Curcio dice, addirittura ci sono sparati sui piedi molte volte. E lui dice, le nostre armi si sono sempre inceppate ed è successo anche gli affari. Poi ci sta uno che spara 48 coppi. Di questi 48 coppi 34 non sono identificabili. Un corpo per essere identificabile deve avere sotto le ultime due cifre dell'anno di costruzione evadita. E questi 34 coppi non identificabili da dove vengono? Sapete da dove vengono? Lo dice, il capo della Digos e il questore di Roma nel settembre 78, chi non ci crede io c'ho sul telefonino una documentazione fotografica. Lo scrivono questi due signori e dicono, non a me.